Io sono Ruggero Teodato, sono nato come un grande regista, ho proseguito per 60 film Il primo film invece che mi ha dato subito fortuna di mettere i film musicali, in tutto il mondo per un film di cura normale che ho fatto nelle sulpine si chiama Grantis Intercept Andare da un'altra parte, anche se